Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura il sindaco della città di Ercolano Ciro Buonaiuto fa il punto della situazione sui nuovi contagi in città. Ognuno è un eroe in questa pandemia, ha detto il primo cittadino che si dice preoccupato guardando agli scenari futuri. Lieve calo dei contagi nella città di Castellammare, mentre a San Giorgio a Cremano il sindaco Giorgio Zinno rassicura i cittadini sui controlli del territorio. A Torre del Greco l'assessore con delega alla Polizia Municipale Raffaele Arbonio, intervistato da TV City, traccia un bilancio di questi primi giorni di controlli. Non sono mancate le sanzioni. Spazio poi anche alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza nel Nolano e il blitz dei carabinieri. Sgominato un clan operativo da Napoli a Roma. 16 persone sono finite in manette. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Ognuno di noi è in quota parte un eroe. Mentre le nostre nonne hanno chiesto di essere eroi andando al fronte e combattendo la seconda guerra mondiale, a noi ci si chiede qualcosa di più semplice. Siamo eroi se riusciamo a rimanere a casa e ad avere un comportamento paziente, responsabile e rigoroso. Non serve molto, ma questo è il momento in cui dobbiamo dimostrare di essere persone capaci di guardare al futuro. E' questo l'accorato appello lanciato dal sindaco di Ercolano, Ciro Bonaiuto, in collegamento nel nostro approfondimento. Il primo cittadino ha parlato delle difficoltà che sta vivendo il Comune, soprattutto per venire incontro alle esigenze sociali ed economiche delle fasce più deboli della popolazione. Al Comune si rivolgono tutti. Si rivolge chi è malato e non riesce ad avere un contatto con l'Asa, si rivolge chi è in attesa del tampone, si rivolge chi sta benissimo e semplicemente vuole uscire perché è asintomatico, si rivolge ai servizi sociali chi è in difficoltà e soprattutto si rivolge ai servizi sociali una nuova categoria, quella dei nuovi poveri, coloro che sono stati costretti a chiudere le proprie attività. Al Comune si rivolgono tutti, ma il Comune però ha poche soluzioni. Ne faccio un esempio. Quando l'Asa non risponde, i familiari di colui che è contagiato chiamano il Sindaco, quasi come se fosse il segretario dell'Asa. Problematiche che riguardano anche i controlli da eseguire su tutto il territorio cittadino. Noi abbiamo a disposizione pochissimi vigili urbani, così come tutte le altre città e facciamo i salti mortali. C'è una pattuglia che gira, che controlla i negozianti, che fanno i furbi, ma giusto per garantire i negozianti più onesti. Cerchiamo di riproverare e sensibilizzare i ragazzini che magari stanno per strada senza mascherina, ma la verità è che noi non dobbiamo affidarci ai controlli. È troppo facile dire che ci vogliono più controlli, la verità è che ci vuole più responsabilità. La preoccupazione maggiore riguarda una possibile apertura per Natale, con un conseguente alleggerimento delle misure di prevenzione. Se a Natale poi riapriamo tutto e iniziamo a fare gli aperitivi fuori ai bar, come siamo abituati a fare, come abbiamo abituato a fare, la cura possa impennarsi. Io credo che noi per tornare alla normalità dobbiamo aspettare qualche mese e dobbiamo avere pazienza. La richiesta che il primo cittadino lancia al Governo è quella di fornire presto i sindaci di misure adeguate a fronteggiare la crisi socio-economica. Affidare ai sindaci la possibilità di sfamare, perché di questo parliamo, di sfamare le famiglie povere potrebbe essere un primo segnale di serenità. Mi auguro che al più presto ci daranno questa inconvenienza che io sono orgoglioso di portare sulle spalle. Covid nel Vesuviano, segnali di speranza da San Giorgio e Castellammare. Numeri che continuano a preoccupare Torre del Greco, dove sono 70 i nuovi contagiati, di cui due soggetti ospedalizzati e ristanti 68 in isolamento domiciliare. Un ulteriore decesso è registrato, un anziano di 81 anni. Si riscontrano inoltre 23 nuove guarigioni. Si riscontra un lieve calo dei contagi a Castellammare di Stabbia. Sono 55 i nuovi positivi su 315 i tamponi effettuati e 47 le persone guarite nella giornata di ieri. Sono 16 i positivi che presentano i sintomi del virus. Piccoli segnali di speranza, scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco, che ci inducono a tenere duro in questo momento delicatissimo. Atto è annunziata nella giornata di venerdì registrati 68 nuovi casi di positività al Covid-19. Sono 90 i soggetti guariti. Un ulteriore decesso colpisce la città. Un ulteriore decesso colpisce la città. Si tratta di un 66enne dipendente comunale addetto alla manutenzione della segnaletica stradale. Il signor Apuzzo era una persona per bene, un ottimo dipendente, un lavoratore serio e capace. Ai suoi familiari vanno le più sentite condoglianze da parte dell'amministrazione comunale. Annunciata inoltre l'attività di screening dei cittadini per la riapertura imminente delle scuole. Sarà possibile volontariamente effettuare il test rapido per il personale docente e non docente e per i relativi familiari conviventi. La sede è designata per i comuni di Torre Annunziata, Bosco Reale, Bosco Trecase e Trecase e la palestra dello stadio comunale Girò, di Torre Annunziata. I test saranno effettuati da mercoledì 18 a sabato 21 novembre dalle ore 9 alle ore 13. Intanto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, rassicura i cittadini riguardo i controlli sul territorio. Il controllo delle forze dell'ordine è costante, ribadisce Zinno, e continua soprattutto ora che la campagna è entrata in zona rossa, con le nuove e più stringenti regole per i cittadini ed esercizi commerciali. Aumenta dunque il numero di verbali effettuati. Sono 50 i controlli nella giornata di ieri e 3 i verbali effettuati ad altrettante persone per essersi spostate senza giustificati motivi. 60 persone firmate, 15 sanzionate, una denuncia, due attività commerciali chiuse e il bilancio dei primi giorni di controlli a Torre del Greco dopo le ultime misure restrittive che hanno visto anche la campagna in zona rossa. In collegamento con gli studi di TV City l'assessore con delega alla Polizia Municipale Raffaele Arbonio fa il punto della situazione. Da domenica abbiamo un po' implementato i controlli sul territorio, anche se c'è una piccola differenza da fare rispetto ai mesi di maggio e di aprile scorsi. In quei mesi i controlli sul territorio erano coordinati dalla Questura, quindi anche il personale della Polizia Municipale seguiva le ordinanze del Questore, quindi erano coordinate con le altre forze di Polizia. Invece da questi due o tre giorni al momento siamo autonomi, siamo svincolati dall'ordinanza del Questore, ma penso ancora per poco. Quindi attualmente i vigili, quindi il corpo del comando vigili della città di Torre del Greco, sta effettuando dei controlli random sul territorio in modo autonomo. Posso dire qualche dato, in questi primi tre giorni sono state fermate circa 60 persone, 15 sono state sanzionate con una multa di 400 euro, una addirittura è stata denunciata per false generalità, perché ha dato delle generalità non proprie e due attività commerciali sono state chiuse, nello specifico un supermercato e una sala a biliardo. In questa sala a biliardo domenica mattina per esempio c'erano dieci persone che in barba a tutti di PCM erano intenti a giocare una partita di biliardo come un giorno qualunque. Le aree più critiche al momento dove si registrano maggiori assembramenti sono nel centro cittadino. I controlli proseguiranno in maniera capillare su tutto il territorio, nonostante le difficoltà legate alla carenza d'organico. Attualmente abbiamo 4-5 pattuglie sul territorio, che per un territorio come quello di Torre del Greco sono estremamente poche, quindi è un servizio che va implementato e coordinato soprattutto con la polizia, con la finanza e i carabinieri che già comunque stanno effettuando i controlli sul territorio. Non manca l'appello dell'assessore alla responsabilità e al buonsenso dei cittadini, che d'altro canto hanno bisogno di sentire concretamente la vicinanza delle istituzioni. Mi appello anche un po' al buonsenso dei cittadini perché a volte c'è i propri cittadini che dicono che occorre un maggior controllo, poi magari sono i primi che escono dieci volte al giorno per poter fare la spesa. Le istituzioni ci sono e ci saranno, quindi i controlli saranno ancora implementati, ci dispiace anche da amministratori ma soprattutto da cittadini, poi vedere attività che vengono chiuse, cittadini che vengono multati. Le multe fatte negli ultimi giorni sono pesanti, attività che nonostante la crisi vengono chiuse ci fanno male, quindi ci auspichiamo che la gente capisca che non si può più giocare, quindi i vigili andranno a tambur battente e non potranno chiudere occhio, quindi ci si appella a questo senso di responsabilità perché la situazione non è delle migliori. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a Casamarciano 240 kg di GPL ed un'area di 2.500 m2 destinata a discarica di rifiuti. In particolare i finanzieri del gruppo di Nola, durante un controllo su strada, hanno fermato un autocarro che era uscito a poco da un'area privata, scoprendo del GPL di contrabbando contenuto in alcune bombole. Le fiamme gialle hanno quindi esteso le ricerche all'immobile nella disponibilità del responsabile, rinvenendo ulteriore GPL di contrabbando e un'elettropompa per la distribuzione del prodotto. Le attività si sono focalizzate anche sulla vasta area che circonda il deposito abusivo di GPL e qui è stata scoperta un'enorme quantità di rifiuti speciali, tra pneumatici, sanitari, vernici, scarti di lavoro e idili, abbandonati a terra. Denunciati tre responsabili, due per reati ambientali e uno per contrabbando. Nel corso della mattinata in provincia di Napoli, Caserta, Roma e Forlì, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione in ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, nei confronti di 16 indagati ritenuti responsabili a verio titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio, estorsione, detenzione, eccessione di sostanze stupefacenti, porto e uso illegale dal mitafuoco ed altro. Le indagini hanno consentito di ricostruire la piena operatività del clan Giannelli, operante nella città di Napoli, nel settore delle estorsioni e del narcotraffico e la conflittualità con il gruppo esposito Nappi-Bitonto, attivo nel medesimo contesto territoriale. In particolare le investigazioni coordinate dalla DDA di Napoli hanno permesso di ricostruire come tali organizzazioni camorristiche rientrino nella sfera di influenza e di controllo del clan Licciardi, famiglia aderente allo storico cartello della criminalità organizzata denominato Alleanza di Secondigliano. Le acquisizioni investigative hanno consentito altresì di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in relazione all'omicidio di Zinco Rodolfo avvenuto il 22 aprile 2015, commesso per l'affermazione degli scopi criminali del clan Giannelli in quell'area. Nel corso delle indagini sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza anche in relazione al tentativo teso ad uccidere gli Giannelli e Alessandro e il Pinto Roberto, riconducibili a controversie sorte per il controllo del traffico di droga in contrapposizione con la famiglia facente capo a Monti Agostino e ad adunazione di intimidazione armata commessa da appartenenti al clan Giannelli, mediante l'esplosione di colpi di Kalashnikov verso abitazioni riconducibili alla famiglia Monti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.